Signor ambasciatore, signori Presidente dell'Università, professori, studenti, signore e signori, benvenuti alla Sorbona. Signor Presidente del Consiglio, la sua presenza qui oggi tra noi è un segno di considerazione al quale, nelle tragiche circostanze in cui siamo immersi dal 13 novembre, l'intera comunità universitaria di Parigi e dell'Ile-de-France sono particolarmente sensibili. Non ci sono parole per esprimere questa tragedia che colpisce in particolare i giovani, l'istruzione e il mondo dell'insegnamento superiore. Mai dopo la Seconda Guerra Mondiale le Università di Parigi e dell'Ile-de-France hanno perso tanti membri in tali circostanze. E poiché le università sono europee e internazionali, hanno perso studenti francesi, ma anche provenienti da diversi paesi, tra cui il suo signor Presidente del Consiglio. Non ci sono parole. Noi sotterriamo i nostri morti, ma dobbiamo comunque trovare le parole per fare il lutto e riprendere il corso della vita. Dobbiamo trovare parole per dare risposte agli interrogativi di fronte ai quali ci troviamo. E lo sappiamo tutti. Le uniche risposte che possiamo dare sono quelle dell'istruzione della cultura, della conoscenza e della ragione di fronte alla barbarie. La sua venuta qui alla Sorbona manifesta il suo attaccamento, che è pari al nostro, alla forza dello spirito. Gliene siamo profondamente grati. A nome dell'intera comunità universitaria, signore e signore, l'omaggio alle vittime degli attentati del 13 novembre prenderà la seguente forma nel corso della mattinata. Innanzitutto un intervento del professore Filippe Boutry, presidente dell'Università, rettore dell'Università Paribas, a nome delle vittime del 13 novembre. Poi interventi della ministra Baludel Casseme, del ministro e del presidente del Consiglio Matteo Renzi. Adesso daremo la parola al rettore Boutry. Vi invito ad alzarvi a rispettare un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime degli attentati. Vi ringrazio. Do la parola al rettore Filippe Boutry. Signora Ministra, signor segretario di Stato, signor ambasciatore, signor console generale, cancelliere, signor Presidente, signor Vicepresidente, signore e signori, professori, cari colleghi e colleghe, carissimi studenti e studentesse. Il saluto delle tre università che portano il nome di Sorbonne, Paris 1, Pantheon Sorbonne, Paris 3, Sorbonne Nouvelle, Paris 4, Paris Sorbonne. Sono state duramente colpite dagli attentati terroristi del 13 novembre. A Sorbonne Nouvelle è morto uno studente di Master d'Italiano, che voleva studiare a Parma il teatro italiano del Cinquecento. A Paris-Sorbonne sono morti due studenti di musicologia, un violonista algerino e una studentessa che doveva partire appena a Palermo per lavorare sulla musica barocca. E anche una studentessa di lettere moderne che si specializzava su Emile Zola. A Pantheon Sorbonne è morto un giovane avvocato internazionale, appena unifico dell'università, e una ricercatrice di demografia, la nostra cara collega Valeria Solesin, della quale l'Italia ha fatta la vittima esemplare di questi avventati terroristi e ha riservato eseguie nazionali sulla piazza San Marco di Venezia, dove c'era una piccola delegazione della mia università. Non ho conosciuto personalmente Valeria Solesin, ma ho vissuto con tutti i miei colleghi la terribile notte del 13 al 14 e la giornata che ha seguito quando abbiamo sperato un momento che fosse ancora viva. Vorrei ringraziarle per il loro impegno escezionale accanto ai suoi amici e colleghi che hanno passato tutte queste ore a visitare gli ospedali parigini, i servizi dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato Generale d'Italia e che hanno lavorato con noi. Valeria Solesin è apparsa come una persona eccezionale, vivacissima, intelligente, generosa, attenta a tutti. Abbiamo vissuto un momento molto commovente quando si è fatto omaggio a lei all'Istituto di Demografia dell'Università di Parigi 1 in presenza dei suoi genitori Alberto e Luciana e del finanzato Andrea che ci hanno colpito tutti con la loro immensa dignità dell'immenso dolore. Amici e colleghi, studenti e studentesse hanno espresso a questo momento nella loro propria lungua l'affetto immenso che provavano per la loro cara Valè. Doveva anche sostenere e discutere la tesi in primavera e lavorava sul lavoro femminile. Il suo moto era «Alle le figlie, avanti ragazze». L'ambasciatore Gian Domenico Magliano ha sottolineato nel suo intervento all'IDUP per i studenti voi dovete lavorare voi dovete studiare voi dovete vivere e questo grido di vita ci sembra importantissimo in questo momento. La sua presenza, signor Presidente di Consiglio in Sorbona è molto significativa per le nostre tre università. L'Italia ci è un paese così calvo per la sua civiltà per la sua cultura per il ruolo che gioca in Europa. Per tutto questo, signor Presidente del Consiglio, molto grazie. e grazie. Grazie a tutti. Caro Thierry, signor Ambasciatore, signore Vice Presidente, signora Vice Sindaco, signor Rettore, signore Presidente di Facoltà, signore e signore e gli studenti e le studentesse. In questo luogo, in questo momento, mi viene immediatamente in mente una parola, una parola che sintetizza ciò che ci unisce, che sintetizza ciò che è avvenuto il 13 novembre, una parola per la quale è bene lottare, quello di umanesimo. Sì, all'interno di questa università, vicino al Presidente del Consiglio Italiano, in compagnia di voi tutti, ecco, questa è una parola che ha un senso e che ci riunisce, umanesimo. Perché? Perché è nato appunto dalla fiducia nell'uomo, dalla diffusione del sapere e non ignoro il ruolo svolto dall'Italia, appunto, e in particolare, caro Matteo Renzi, da Firenze in questa nascita. Sì, l'Italia per la Francia dell'epoca è stata sia una fonte di ispirazione che una rivale, ma fu una rivalità generosa, denominata emulazione, come lo dimostra Dubelet, che ha seguito la strada di Dante e Petrarca. È una lotta per una maggiore umanità, per comprendere la ricchezza e la complessità dell'essere umano, umano come il fatto di apprezzare un concerto, di apprezzare una cena con amici, semplicemente alla fine di una settimana di lavoro per rilassarsi. Tutte queste vittime di una violenza cieca e vorrei qui salutare gli studenti e ricercatori che hanno pagato un pesante tributo. Erano francesi, rumeni, portoghesi e anche italiani. Le vittime di 19 nazionalità diverse che per la loro stessa diversità dicono che cosa è l'umanesimo. Questa meravigliosa idea di una repubblica delle lettere, di una repubblica basata sull'amore, del sapere, della conoscenza, della cultura. Ed è perché l'università significa universalità, è un luogo che ci unisce, ma questa unione la ritroviamo anche in una sala di concerti, sulla terrazza di un bar. I luoghi dove si vive insieme, si riflette insieme. Da noi queste terrazze non sono solo luoghi di distensione, ma anche luoghi di scambio e anche di sapere. Gli insegnanti, i ricercatori, gli studenti, voi tutti sentono questo con particolare acutezza. Non è un mestiere che si può esercitare ad orari fissi. Ed è per questo che questi scambi si svolgono anche in luoghi che non sono quelli tradizionalmente dedicati. Non è per caso che le porte della Sorbonne si aprano su una piazza dove ci sono tante bar. Sì, gli studenti, gli insegnanti, i ricercatori sanno che spesso le ricerche vanno avanti più rapidamente in un bar che non nella stessa università. Sappiamo quanti tesi sono state concluse dopo aver parlato con un compagno di studi appunto intorno al tavolo di un bar. Ecco che cos'è appunto l'umanesimo, questa condizione che il sapere, l'arte e la cultura devono essere vissuti quotidianamente e che non ci si ferma mai di dedicarsi a questo sapere. E quindi il 13 novembre ci ha sconvolti, ci ha commossi e non facciamo che l'odio oscuri le nostre menti. Nessuno degli eventi dolorosi che noi viviamo devono tollerci il vigore e la saggetta. Dobbiamo essere determinati e determinati sulle nostre convinzioni, determinati sui nostri valori. Questa fermezza non è insensibilità, non è freddezza. Noi la attingiamo nei singhiozzi, nel disgusto che abbiamo tutti. La nostra collera, la nostra rabbia è grande di fronte a questi atti, ma questa rabbia non ci farà rinunciare ai valori che sono i nostri. Questo umanesimo che ci unisce, questa rabbia non ci accecherà. Ci porta invece a raccogliere le sfide, a far fronte a questa verità molto difficile. Che il 13 novembre sera sono degli esseri umani che hanno ucciso altri esseri umani, sono giovani che hanno assassinato altri giovani. Quindi la sfida che ci aspetta è una sfida di sicurezza, una sfida militare, ma anche del pensiero. Noi siamo in carica degli spiriti, delle menti, dobbiamo trasmettere agli studenti le competenze necessarie per elaborare un senso. Ed è così che potremo vincere, perché il terrorismo e la radicalizzazione possono radicarsi in assenza di un senso. La radicalizzazione avviene rapidamente attraverso internet e quindi noi dobbiamo attingere al sapere e all'umanità per infrangere questa fascinazione così pericolosa. Dobbiamo poter decifrare le immagini e comprendere le tecniche di montaggio e manipolazione che rappresentano la forza di questi terroristi. Nelle pratiche degli storici c'è un'identificazione delle fonti e l'analisi dei documenti affinché gli studenti possano sfuggire alle teorie del complotto. Così, di fronte a un fenomeno complesso quale è la radicalizzazione, la scuola non ha soluzioni ai miracoli, può solo proporre rigore, il sapere, la riflessione e lo spirito critico. Contrappone alla propaganda l'umanesimo, che è un valore, un valore repubblicano. Questi valori non bisogna solo insegnarli, ma anche viverli e dimostrarsi alla loro altezza. Libertà, uguaglianza, fraternità, questi valori ci devono chiamare all'azione. E questo è il nostro motto. È una motto, un motto deve essere proferito in modo imperativo. Tutta la comunità educativa ha dei vincoli che rendono il loro lavoro difficile. Un bambino, prima ancora di essere uscito da scuola, è condannato dal peso delle disuguaglianze economiche e sociali a fallire. Come dire fraternità se ogni anno lasciamo tanti giovani uscire dal sistema scolastico privi di diploma e se riteniamo che una volta che sono usciti dagli istituti scolastici non ricadono più nella nostra responsabilità. Ed è per questo l'insegnamento deve intervenire, deve agire, perché queste tre parole abbiano un senso, liberando attraverso le borse, gli studenti, dai vincoli economici affinché possano trovare la propria strada e possono trovare un futuro, diversificando il reclutamento dell'insegnamento superiore, instaurando una vera università. Dobbiamo quindi garantire l'apertura. Dobbiamo quindi lottare contro l'abbandono scolastico che può portare ad oltre rotture con la famiglia, con la società e con l'intero Paese. Quindi dobbiamo dare di più a coloro che hanno di meno, appunto, per lottare contro le disugualanze economiche e sociali, che non sono fatalità. Agendo in tal modo per la libertà, per l'uguaglianza, per la fraternità, vogliamo dire che il nostro Paese non si accontenta di questo semplice motto, ma vuole che questi valori siano messi in pratica. Attraverso ricerche, analisi, studi, noi dobbiamo dare un contributo a risolvere la crisi che stiamo vivendo. L'umanesimo non è la nostalgia dei secoli passati, l'umanesimo è anche una risposta alla situazione attuale. I nostri valori, non solo parole, sono atti. La nostra forza, i momenti di dolore e di raccolimento che ci uniscono, la nostra forza noi la attingiamo in ciò che ci unisce. Siamo umani, siamo umanisti e la nostra maggiore sfida attraverso queste prove sarà di rimanerle. Grazie. Madame la Ministra Bayos Belkassem, Signor Rettore, Signor Presidente Boudry, Signori Ministri italiani Paolo Gentiloni, cari professori, cari studenti, signore e signore, dopo il massacro di Charlie Hebdo, siamo di nuovo colpiti dagli attacchi terroristici in questa città, Parigi. Questa volta le vittime non erano delle celebrità. Si trattava in gran parte di giovani uccisi in un teatro o in un bar. In luoghi simbolici della convivialità francese e europea. Per gli italiani Parigi non è una città straniera. È un luogo che fa parte della nostra cultura. Il palazzo del Lussemburgo, voluto da Caterina De Medici, si trova a qualche decina di metri da qui. E, poco oltre, la casa dove ha lungo vissuto Italo Calvino. Tre secoli e mezzo separano il secondo dalla prima. E durante questi secoli artisti, scrittori, intellettuali italiani hanno lavorato e vissuto a Parigi. Mai, mai nessuno di essi si è sentito qui in terra straniera. Hanno avuto la sensazione di essere a casa propria. La stessa sensazione che da sempre artisti e scrittori francesi hanno avuto a Roma, a Firenze, a Venezia. Dopo il 13 novembre è stato detto, giustamente, che è un'arte di vivere che è stato aggredito. Con le parole del motto della città di Parigi. Ebbene, quest'arte di vivere l'abbiamo costruito insieme. A volte si dice che c'è una rivalità. Lei ha parlato di generosa rivalità tra Francia e Italia, in proposito. Litighiamo a volte sulla qualità dei vini, sulla gastronomia, sull'istruzione e anche calcio e moda. Ma la cosa che colpisce maggiormente sono gli scambi che nel corso dei secoli hanno caratterizzato la nostra cultura. Uno storico francese, che amava molto l'Italia, Fernando Baudello, ha ricordato. Insieme, secolo dopo secolo, abbiamo costruito insieme una civiltà che continua ad abbagliare il mondo equisto. Ed è insieme che dobbiamo difenderlo, soprattutto oggi. Ma non dobbiamo solo difenderlo. Jean-Paul Sotre diceva che non si difende la cultura. La si fa. Ed è appunto di questo che si tratta oggi. Non di difendere la cultura, ma di farla insieme. Sono quindi felice di trovarmi qui, in un luogo dove la cultura non si difende, ma si produce. Rendo omaggio a questo luogo incredibile, che è un luogo europeo, e non solo francese o parigino. È un luogo che appartiene al mondo interno. E sono colpito e commosso di essere in uno dei luoghi maggiormente colpito dagli attacchi tra le vittime, come lei ha detto, signor Presidente, una giovane italiana che incarnava lo spirito della nostra generazione, della generazione Erasmus, Valeria Solesin, 28 anni, dottorato qui, alla Sorbona. Nata in Italia, cresciuta in Europa, uccisa con decini di compagni di strada da assassini che non potevano accettare questi progetti, queste anticipazioni di vita. Noi abbiamo sentito parole incredibili dalla sua famiglia, di rara bellezza. E possiamo nominare altri studenti, uno studente francese di Hume. Amava l'Italia, che considerava una seconda patria. Aveva fatto il suo Erasmus a Parma e qui, alla Sorbona, era ricercatore di lingua italiana. lavorava preparando, nel frattempo, una dissertazione sul nostro teatro. Il suo sogno era di diventare insegnante prima di essere massacrato nel bar dove si trovava nel soggiorno di ferie. Qui, alla Sorbona, sentiamo ancora l'eco dei loro sogni. Io credo che la reazione dei governi europei agli attentati di Parigi deve essere molto dura. L'Italia è tra i paesi che contribuiscono con maggiore efficacia alle forze di coalizione in Afghanistan, in Siria, nei Balcani. Ma oltre a queste azioni militari è chiaro che occorre una migliore cooperazione tra i servizi di polizia e di intelligence dei Stati membri. È una lezione molto dura questa che abbiamo potuto trarre dagli eventi del 13 novembre. Tutti i paesi europei dovranno mettere in comune le risorse necessarie per far fronte alla minaccia terroristica anche se il prezzo da pagare è percepito da alcuni come un sacrificio della propria sovranità nazionale. Credo che il momento sia giunto di accettare questo sacrificio. Ma l'uso della minaccia terroristica è amplificato dall'uso dei mezzi digitali che consente ai terroristi di organizzare gli attacchi. Fortunatamente le tecnologie digitali possono anche essere utilizzate per rintracciare i movimenti terroristici e le transazioni finanziarie di queste organizzazioni che preparano gli attacchi e i movimenti di esplosivi. Le tecnologie ci consentono attraverso software e attraverso il riconoscimento facciale e con le riprese delle cineprese di analizzare appunto i loro itinerari. I itinerari dei potenziali terroristi per intervenire prima che vengano compiuti gli attacchi. Noi dobbiamo fare di più in questo settore. C'è la possibilità e oggi la necessità di farlo. Dobbiamo condividere il contenuto delle nostre banche dati e dobbiamo far tutto il possibile per aumentare il livello di sicurezza. Ma non è sufficiente. La situazione in Medio Oriente è difficile. A parte la speranza delle primavere arabe abbiamo vissuto la delusione di governi che hanno colpito duramente. Assad ha cercato una risposta militare alla richiesta di libertà. in Iraq nel dopoguerra non c'è stato un nuovo equilibrio tra le varie componenti della società. Altrove ci sono nuove situazioni di crisi che rendono sempre più difficili i processi di pace. In Libia un processo diplomatico è in atto. Dobbiamo sostenerlo con i mezzi di cui dispongono l'Unione Europea e la comunità internazionale. l'instabilità sulle nostre coste costituisce una fonte di instabilità. Dobbiamo quindi stringersi tutti insieme per lottare contro le forze presenti nel nostro continente. Ci sono dei rischi legati alla crisi economica e finanziaria. Ci sono troppe ferite nel tessuto dell'Unione. Ci sono degli strappi soprattutto tra le istituzioni e i cittadini. Infine dobbiamo adoperarci per far fronte alla globalizzazione. Venti anni fa gli analisti politici dicevano che avevamo raggiunto la fine della storia alla Francia e l'Italia. Antiche nazioni sanno bene che la storia non finisce mai che continua con diversi punti di riferimento. penso che oggi il momento sia venuto di avere la possibilità di vincere un'altra sfida importante. Noi sappiamo quali sono i sentimenti le preoccupazioni e i timori di questi giorni. L'Italia conosce questo senso di spaisamento e di sicurezza che gli attacchi terroristici possono proiettare sulle nostre società. Abbiamo contato le vittime del terrorismo politico negli anni 70 e 80 e quelle del terrorismo mafioso alcuni anni dopo. Abbiamo adottato misure eccezionali per reprimere le attività terroristiche. Abbiamo riusciti a tagliare i legami di affiliazione delle organizzazioni terroristiche ma questo per me è un punto crociale ancora più della risposta del governo alla reazione della società italiana che ci ha consentito di contrapporci a questa minaccia. Per vincere il terrore bisogna prima vincere la paura e quindi sono le reazioni degli operari degli studenti che ha creato il vuoto intorno ai terroristi negli anni 90. è stata il ruolo della società civile che ha soffocato la mafia. Si tratta di far capire a quelli che sono affascinati dall'ideologia terroristica che non c'è una solidarietà possibile in questo senso ed è il motivo per cui tutte le comunità in particolare quella dell'Unione Europea deve condonare senza ambiguità gli attacchi. questo è necessario e giusto perché la lotta al terrorismo non ammette esitazioni. Si dice che la nostra vita non deve essere per fase del terrore che dobbiamo portare avanti la nostra vita. La paura è un sentimento normale ma non deve farci perdere la nostra umanità è stato detto ultimamente ma dobbiamo continuare a dirlo. Io ho deciso di dirlo dall'aula Orazzi e Curiazzi è l'aula di Roma in cui 58 anni fa sei paesi la Francia l'Italia e Lussemburgo il Belgio la Germania e l'Olanda hanno firmato i trattati istitutivi dell'Europa e sono ho deciso di andare in quella stessa sala per lanciare il messaggio che noi non accettiamo tutto ciò e quindi come governo italiano abbiamo deciso di fare un investimento importante in materia di sicurezza ma anche in materia di cultura e di istruzione per ogni euro aggiuntivo speso per la sicurezza dobbiamo investire un euro per la cultura la risposta al terrorismo deve essere una risposta di sicurezza certo ma al contempo deve essere una risposta culturale ed educativa dobbiamo occuparci di sicurezza ma non dobbiamo rinunciare alla nostra identità come lei ha detto giustamente signora Ministro e quindi dobbiamo chiamare l'innovazione nella cultura e nell'educazione per ogni investimento nelle forze di polizia ci deve essere uno sforzo maggiore di integrazione per ogni caserna ristrutturata dobbiamo creare musei più accoglienti per ogni investimento nella sicurezza un euro deve essere dato allo sport ai bambini alle scuole i soldi dedicati alla sicurezza diventeranno un investimento solo se noi sappiamo che stiamo difendendo la nostra identità identità che è un'identità basata sul pluralismo e sul dialogo ed è questa che la risposta darà e deve dare all'Europa dobbiamo continuare a rivendicare il nostro diritto a vivere come cittadini europei donne e uomini liberi con la loro socialità e la loro fiducia nei valori democratici allelefi avanti ragazze come avete detto a proposito di Valeria e penso che sia importante per le giovani che si trovano in questo continente ma in tutto il mondo credo che sia giunto il momento per un nuovo protagonismo delle donne nella politica nella società e dobbiamo dare come Francia e Italia l'esempio di questo messaggio che è un messaggio cruciale per il futuro per il futuro dell'essere umano il 13 novembre i terroristi hanno colpito i valori dell'occidente volevano toglierci i nostri punti di riferimento hanno ottenuto esattamente il contrario sono felice di essere qui perché questa università è tra le più antiche del mondo con Bologna Oxford e Cambridge in quanto chiesa laica dei valori occidentali è sopravvissuta dopo anni di conflitto di guerre di devastazioni questi muri sono sempre stati solidi invulnerabili a qualsiasi minaccia oscurantistica perché il dialogo il dialogo tra le culture è il miglior antidoto contro la barbarie e le università ci impongono di essere efficaci nella difesa della libertà e della pace sì l'università è un avamposto per la difesa della libertà e della pace sono anche le culle della nostra identità europea e quindi non bisogna avere paura di aprirsi le idee degli altri che rispettano le regole di convivenza civile investire sull'identità europea significa oggi non solo seguire le regole burocratiche di Bruxelles ma rafforzare il sistema umanitario della nostra società contro le minacce dell'integralismo lei signora ministra ha parlato di umanesimo l'umanesimo abbiamo potuto vederlo è concepito per far fronte all'incertezza e per evitare che la crisi e la violenza si trasformino in una regolamentazione politica e culturale è soprattutto una forma di resistenza e oggi questi valori sono quelli che dobbiamo recuperare se vogliamo nuovamente trasformare una minaccia terribile in un'occasione in un'opportunità per una maggiore cultura maggiore creatività una maggiore civiltà l'umanesimo si è sviluppato in tempi di crisi non in momenti floridi l'umanesimo si è sviluppato in momenti di crisi sì abbiamo questa immagine idillizia bibliaca degli umanisti che passeggiano tranquillamente nei giardini di Firenze ma è un'immagine falsa in realtà la prima volta che Petrarca e Boccaccio si sono incontrati a Firenze la città era in preda alla prima crisi finanziaria dell'epoca e della peste quindi è interessante vedere che l'umanesimo è la risposta a queste situazioni di difficoltà ed è sempre in situazioni di crisi e di pericolo che gli umanisti hanno prodotto le riflessioni e i loro capolavori hanno costruito la nostra umanità hanno cambiato il mondo la cosa che colpisce maggiormente nei nostri nemici è che negano immaginazione la fantasia e la bellezza le odiano le immagini su internet sono quelle di persone che insegnano ai bambini ad odiare la musica a odiare la musica a detestarla una delle scene più marcanti di Timbuktu il film di un regista che lavora a Parigi è quella in cui un gruppo di bambini gioca a calcio senza pallone perché gli integralisti hanno vietato qualsiasi tipo di gioco compreso il calcio la musica il teatro il pallone il calcio ed è per questo motivo che qualsiasi risposta agli attacchi deve contenere diversi ingredienti la sicurezza certamente è chiaro è ovvio ma anche la cultura l'educazione l'istruzione non è possibile vincere solo con la sicurezza ed è per questo che ho annunciato questo investimento un euro per la sicurezza e un euro per l'istruzione contro il terrorismo dobbiamo potenziare i dispositivi di sicurezza ma dobbiamo ricordarci quali sono i valori occidentali i valori del mondo intero che sono i valori in cui noi faremo un investimento per il futuro ed è esattamente per questo motivo che prima di venire a Sorbonne sono andata in università stata quella di Bologna poi sono stata a Humboldt a Berlino in Cile e altrove ho deciso di andare in Kenya perché sono stato colpito da ciò che è venuto a Gadissa molti studenti sono stati uccisi dall'integralismo e dal fanatismo ho incontrato centinaia di studenti che dicevano no alle tentazioni terroristiche che avevano scelto la via della crescita nella cultura in Cile gli studenti dicevano con la loro prensenza mai più la dittatura oggi qui alla Sorbona dobbiamo dire che noi vogliamo resistere a qualsiasi minaccia esterna e siamo equipaggiati per resistere contro qualsiasi attacco e siamo pronti a luttare insieme per la libertà io penso che noi dobbiamo oggi avere il desiderio di continuare non solo a lavorare al di fuori dei nostri confini nazionali ma anche delle nostre città io penso a quartieri metropolitani nelle grandi città della nostra Europa che sono oggi diventati incumbatori di odio di fronte alla tragedia del 13 novembre dobbiamo interrogarci sulle cause sulle motivazioni profonde che hanno trasformato giovani europei in macellai senza pietà né per gli altri né per se stessi io sono stato colpito dall'immagine di quella giovane donna che è morta durante l'intervento della polizia a Saint Denis guardando il suo profilo facebook si vedono personalità diverse quando era piccola un cowboy una terrorista che porta il velo quindi due persone due personalità contemporaneamente come se ci fosse stato un momento preciso un momento in cui questa giovane donna non ha cercato più risposte nell'ambito della convivenza civile e ha pensato di trovarlo nel fanatismo e eviterò qualsiasi malinteso in quanto responsabile politico io rivendico il diritto per lo stato di difendere i propri cittadini a qualsiasi costo utilizzando qualsiasi mezzo senza accedere alla tentazione di un'apologia sociologica a basso costo tuttavia in quanto cittadino io stesso devo interrogarmi sulle cause per le quali alcune persone nate in periferia nate nelle Binoville che hanno studiato nelle nostre scuole che hanno giocato nelle nostre strade hanno potuto trasformarsi in automi armati perché perché tutto ciò dopo la carneficina dobbiamo andare alla redice stessa di questo male di questo dolore dobbiamo analizzare le cause per poter far fronte al nostro futuro di umanesimo e solidarietà dobbiamo trovare la possibilità di rispondere esattamente qui e rispetto agli studenti del passato e quelli attuali il male di cui non ci si rende conto sono i mali più pericolosi un grande europeo che ha fatto i suoi studi qui alla Sorbona e che oggi è una fonte di ispirazione per intere generazioni l'uomo europeo si è nutrito di future la mancanza di prospettive è una fame dello spirito è una malattia e come ogni malattia deve essere curata prima che si possa diffondere nella società ai potenziali terroristi bisogna dare ciò che gli assassini hanno rubato alle proprie vittime il 13 novembre un futuro in cui vivere insieme francesi italiani europei l'Italia e la Francia sono grandi paesi che tutti conoscono e amano come fattori di cultura e portatori di speranza e dobbiamo oggi più che mai essere all'altezza della nostra storia lo faremo lo faremo anche grazie a voi la Sorbona rappresenta la reale grandezza di ciò che è l'Europa farne valori di educazione e ideali sono felice di aver potuto esprimere qui la parola del governo del popolo italiano in memoria di Valeria di Guglielmo e di tutti gli studenti e gli insegnanti uccisi dal terrorismo vi propongo di assumere qui tutti insieme un impegno solenne noi non rinunceremo mai noi non rinunceremo mai ai nostri ideali non rinunceremo mai alla nostra identità noi non rinunceremo mai a vivere liberi a vivere la Sorbona la Sorbona ci insegna che la cultura è più forte dell'ignoranza e soprattutto la nostra cultura ci insegna che la bellezza è più forte sempre più forte della barbarie viva la Francia viva l'Italia grazie a tutti grazie a tutti